Ciao ragazzi, mi trovo a Piazza Poleteama di sera a Palermo e sto andando a mangiare il sushi però prima volevo regalarvi questi colori del Teatro Poleteama che sono spettacolari Che colori! Alle nostre spalle il sushi, adesso vi ci portiamo Andiamo, attraversiamo Il ristorante è dietro questo tempietto e si chiama Gohan Ci siamo quasi Ci siamo Ci avete chiesto un buon sushi a Palermo E quindi noi vi ci abbiamo portato Gohan, è un'ottima soluzione sushi in centro Quindi a Piazza Castelnuovo All you can eat I gamberi Le albie Palermo è una città del pesce Posso capire che è criticabile per mangiare il sushi a Palermo Certo sarebbe bello fatto di orata, di saraghi Però c'è chi ci chiede, è il giapponese Quindi Palermo offre anche il giapponese, il sushi Andiamo a vedere il sushi man Qui come all you can eat è pulito I ragazzi sono bravi, noi veniamo spesso Sappiamo come lavorano Quindi quando ci chiedono un ristorante orientale Comunque di sushi o di cucina Anche piatti cinesi Poi da quando c'è il nuovo menù è buonissimo In questa zona c'è questo Poi c'è anche qua i zii Ce n'è diversi Stasera siamo qua e ve lo faccio vedere La particolarità di Gohan Chiaramente è il rullo Che ancora a Palermo non c'è nessun altro Quindi la cosa bella è che si arrivi affamato Hai ordinato da poco In attesa che arriva quello che hai ordinato Ti puoi acchiappare Queste navicelle spaziali dai rulli